Sfortunatamente conosciamo già l'ervinia amilovora, il batterio che causa il colpo di fuoco. È un nemico difficile da combattere perché non esiste una cura, quindi l'unica opzione che abbiamo è la prevenzione. Se non siamo protetti, questo batterio è in grado di distruggere completamente il nostro frutteto. Manica e BioFerm hanno ottimi strumenti per poter convivere con il colpo di fuoco ed evitare così le infezioni nei momenti più critici. La strategia di Manica inizia con l'arrivo dell'autunno, quando i rameici di Manica diventano protagonisti. L'applicazione di poltiglia, ossicloro, bordo flow creerà una barriera protettiva nelle ferite prodotte dopo la caduta delle foglie e la potatura, riducendo così l'inoculo presente. Lasciandosi alle spalle l'inverno, le temperature si addolciscono e i batteri iniziano ad attivarsi producendo essudati. Il trattamento con i nostri rameici in prefioritura ridurrà il carico di inoculo presente nei cancri e si raggiungerà la fioritura con un migliore stato sanitario. La fioritura è la principale via d'ingresso per i batteri e il momento di massimo rischio di infezione. Ogni fiore è una porta aperta alla malattia e deve essere protetto con Blossom Protect, un prodotto a base di aureobasidium pululans, che funge da scudo protettivo, impedendo così l'accesso del batterio. Come applicare Blossom Protect? Nei fruttetti in cui il colpo di fuoco è già presente, è importante coprire l'intero periodo di fioritura, effettuando diversi trattamenti in modo che tutti i fiori siano protetti. Negli appezzamenti puliti ma situati in zone di convivenza, c'è un forte rischio durante la fioritura. Qui sarà consigliabile fare il primo trattamento preventivo, 10-20% dei fiori aperti, e ripetere i trattamenti seguendo uno dei modelli di previsione del rischio. Consulta il nostro sito www.manica.com Nel periodo vegetativo continuiamo a controllare il carico d'inoculo nel nostro frutteto, rimuovendo i germogli infetti e applicando Bordo Flow New nei momenti in cui rileviamo una maggiore pressione del patogeno. Fai attenzione agli episodi di forte vento o grandine. Bordo Flow New proteggerà le microferite prodotte rallentando la diffusione della malattia. Molti agricoltori iniziano a raccogliere sapendo che, per un altro anno, il loro raccolto è andato avanti grazie alla strategia integrata di Manica e dimostrando che è possibile convivere con il colpo di fuoco. In Manica ci prendiamo cura di te e del tuo raccolto. Se hai bisogno di maggiori informazioni sulla convivenza attiva, visita il nostro sito web o contatta il nostro servizio tecnico. Grazie per la visione!